2 contro 2! 2 contro 2! Sei pronta? Sì! Sei pronta? Tieni! Ma dai! La partita più bella della mia vita! Sì! Pallone! Pallone! E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki! E io sono Stef, che senti chiamava FIFA! E siamo qui con un nuovissimo episodio! Ovviamente fuori dei video, mi sono allenata duramente, ho fatto tanti allenamenti per poter scappare da questo incubo il prima possibile! Per il bene della squadra, voleva dire Consolini! Perché non ne posso più, non ce la faccio più a stare con questa squadra, non sopporto gli austriaci! Sì! Gli austriaci e quindi me ne voglio andare! Allora, Consolini, fate finta che non ha detto nulla, le ha detto! Voglio migliorare per far vincere questa squadra perché ci tengo tantissimo, amo tutti i miei compagni di squadra, bla bla bla! Quando avrò una squadra forte farò fallire questi e il Cagliari, sarà il mio unico obiettivo finché non finiremo la serie di finta! Fammi andare avanti! Abbiamo giocato qualche partitina così Fere si è allenata un po', anche proprio Fere Dequin è salito, infatti è diventato un 67 di valutazione generale ed è diventato il giocatore più forte della squadra insieme al famosissimo Dieng! Andiamo a fare iniziata la prima partita! Sì, che bello! Quanti gol mi fai oggi? Quanti gol mi fai? 15 15? 15 Ma Fere, non sono possibili i 15, dai! Tre vanno bene, così ti porti a casa il pallone! Allora, spero almeno uno, dai! Spero almeno uno, perlomeno mi impegno, dai! Prometto questo, prometto che mi impegno! Anche io mi impegno a usare tutta la squadra! Ok! Te lo prometto! Ok! Ci sei al centro? Sì, ci sono! Tieni Fere! Tira! Uh! Colpa del portiere! La segno! No! Volevo dare una gomitata al portiere, mi ha distrutto l'azione! Mi ha rovinato il momento, vai! No, però siamo partiti subito bene! Ok, sì, sì, esatto! Già qualche azione, già qualcosina, diciamo che non siamo fermi! Allora, quello lì in fascia, lì la voglio dare, così! Opla! Attento, attento, attento! Bigliacco! Vabbè, il suo compito che pretendi! È un bigliacco! Sono i nostri che non avanzano, i nostri che rimangono sempre niente! Guarda che pigri che sono! Sì, sì, sì! Oh, bravo amico! Giocano super pigri! Fere, lo scatto! Vai, 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 vai! Tieni! Tiro! Ma dai! Al secondo tiro! Allora, bruttissimo anche questo! Perché... Ma l'hai visto cosa hai fatto? Fere, hai dato una testata alla bandierina? Bravo! Ti amo, Fere De Queen! Secondo me questo era un bel gol! Sei il meglio! Guarda! Hop, hop! Certo, tiri sempre piano! Quello che ho fatto fuori video, praticamente è uscito bellissimo! Era proprio un gol potentissimo! Invece in registrazione io mi emoziono! Perché so che tutti i consolini mi stanno osservando, quindi mi viene l'ansia! E diri piano piano! Esatto, e tiro piano piano però segno! Fere, con questo gol scappare a metà campionato è più semplice! È fattibile! Il mio sogno si sta per averare un video che bello! Perché noi ci dobbiamo far notare da una squadra interessante! In modo tale che fanno una buona offerta agli austriaci che fanno subito! Ah, sì, diamolo via! Sono gli unici soldi che vedremo nella vita, quindi sì, lo vendiamo! Mi sembra logico, mi sembra logico! Vorrei, possibilmente, no? Devo fare una richiesta importante! Ok, dimmi Fere! Di cui tu hai una maglietta! Così posso tornare ad avere la maglietta abbinata a Fere De Queen! Ma ne abbiamo solo una, quindi ci tocca a trovare... Ma non è altre! No, no, no! Vabbè, me la compri allora! La compri! Ma se quanto costano? Costano più di FIFA! E scusa, stai dicendo che quindi non vuoi comprare una maglietta a Fere De Queen per renderlo felice? Esatto! Ti sembra giusto questa giochia? Fere De Queen la maglietta ce l'ha, sei tu che non ce l'hai la maglietta! Non lo so, ma non mi sento in sintonia! Però ti posso comprare le scarpette a Fere De Queen! Uh, sì! Quello facciamo! Rosa! Se fai molti gol, oggi ti compro le scarpette! Ci sono, Rosa! Boh, non lo so, forse sì! Ho sbagliato passaggio! Speriamo! Se segni un altro gol, ok, ti compro le scarpette! Allora mi concentro, sì! Va bene! Vai! Uuuuuh! Ti ho bloccato benissimo! Peccato! Dannazione! Infatti non ha proprio saltato! Non ha proprio neanche saltato! Sì, sì, ti ha fatto un... Ok, Fere! Fammi lo scatto! Vai, vai! Tieni, Fere! Ho sbagliato! Vabbè, tira, tira! Eh, no, niente, 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 niente! Uffa! Cerchiamo comunque di segnare, così sono felice e mi lasciano andare! Allora, Fere, ti riprendo subito il pallone! Ripartiamo subito! Guarda, guarda! Ok, ok, ok! Non ha fiscato! Ah, ok, mi sembrava suono! L'ho preso in pieno! Ho preso un occhio! Era davvero troppo anche per quest'arbitro! Ok, l'ho ripresa! Vai! Fere! Avevi privito all'occhio di ferma! Eh, lo so, mi stavo grattando un occhio! Aspetta! Aspetta che giri intorno! Sei pronta? Sì! Aia! Arbitro! Dai, fischia fa... No, dai, sei un criminale! Sei un criminale, però! Iniziato il secondo tempo e siamo ancora 1-0! Quindi per la squadra va benissimo! Per noi un po' meno perché vogliamo fare anche il secondo gol! Eh, sì, assolutamente sì! Allora, perfetto! Scusami! Riscatta, scatta, 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 scatta! Ma sei tu che mi rubi il pallone adesso! Lo so! Ok, vai! Ok, sei troppo avanti! Sono troppo avanti! Brava che te ne sia corta! Prova ad andare qua in fascia! Tieni, Fere! Girati e tira! Ok! Bello! Questo era bello, però! Il tuo primo tiro forte nel campionato! Sì, sì, mi ci sono concentrata! Questo è stato un bel tiro! Aspetta che vado a tirare! Vedi, dov'è? Cerchiamo di fare gol adesso! Sì, vai! Tieni, Fere! Vai! 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 Te la ripasso? No, no! Te la passo? Era in fuorigioco! Ma dai, ma... Ma perché era lì? Ma non lo so, ma chiedile! Che ci faceva? Avrà perso una monettina e si è fermata a raccoglierla! Vabbè, vabbè, vabbè! Come minimo, perché non ci faceva proprio nulla! Però questa è l'azione del 2-0, te lo dico! In un modo o nell'altro, adesso buttiamo dentro la palla! Lo spero! Lo spero! Allora, guarda come faccio ben girare la palla! Andiamo qui! Poi vedo quello in fascia e gliela do! Sei pronta al centro? Corro! Tieni, Fere! Ok, calcio d'angolo! Ma no, no, però... Va bene, va bene anche il calcio d'angolo! Eh, ma questi non vanno mai bene perché non tira bene di testa! È quello il problema! Tieni, Fere! Vai! Vedi, ci arrivano sempre gli altri! Non tira di... Dovremmo fare degli allenamenti di testa! Sì, 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 dopo lo facciamo! Dopo ti faccio fare un bel allenamento di testa! Sì, dopo lo cerchiamo... Perché non salta bene! E te lo faccio fare! Perché in effetti abbiamo qualche problema e dobbiamo sfruttare meglio i calci d'angolo! Eh sì, assolutamente! Perché è una cosa che comunque ci può far fare qualche gol! Anche perché ci capitano spesso... Fere! Eh, prova a farti un passaggio invece! Troppo avanti però! Tieni! Poi! Sì! Due gol! Se l'avevo fatta! Due gol, tutti i miei! Mandatemi via dall'Austria adesso! Guarda ancora, ce l'hai con le bandierine eh! Non so, non mi piacciono! Mandatemi via dall'Austria! Voglio andare via! Questo era anche bello! Questo era anche bello! È carino, dai, sì, sì! Hai fatto un bel tiro forte, piazzato... Guarda, 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 il portiere non poteva nulla! Sì, 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 sì! Mamma mia! Guarda la felicità di Fere de Quil! Guarda! Secondo me si suaga sulla bandierina perché appunto non è felice di stare qua! Eh, anche secondo me non è felice! Tre gol in Bundesliga! Andiamo così! Loro adesso devono attaccare, quindi si sbilanciano e noi possiamo provare a farti fare il terzo gol così ti porti a casa il pallone! Ma non lo voglio il pallone, Austriaco! Allora, tieni e ma devi ripassare! Ok! Perfetto, brava! Dai, ma è stato velocissimo! Più o meno, no, portiere! È stato velocissimo! C'era ancora... Uh, la bloccata! Peccato però! Peccato! Era un'altra azione fantastica! Dovevo stare attenti perché inizio a essere stanco e non vorrei uscire! Ok, ok! Due contro due! Due contro due! Sei pronta? Sì! Sei pronta? Tieni! Guardai! L'ho partita più bella della mia vita! Sì! Pallone! 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 Beh, questa squadra di scarsone alla fine non è poi così male! Eccola qua! Quando fa le triplette! Se segno sempre io va benissimo! Se segno sempre io va benissimo, dai! Sì! 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 Quattro gol in Bundesliga! Secondo me sei diventata capocannoniere! È super fiero adesso! Potresti diventare, di sicuro sei il miglior giocatore della settimana, ma magari riesci a prenderti il miglior giocatore del mese, Fer! Quindi questa volta, questa volta sono il miglior giocatore! Della settimana sicuramente ti metteranno nella formazione! Adesso vediamo quello del mese! Perché dobbiamo giocare bene anche le tre partite! Guardali su cui ti ho difficoltà! Dai che facciamo anche il quarto, Fer! Dai che lo facciamo! Vai, 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 vai! Allora, sì! Fer, guarda il voto! Eh, vabbè! Dieci! Dai che lo teniamo! Che bello! Vedi sì, l'allenamento che ho fatto comunque è servito! Sto riuscendo a fare tante cose! Te l'ho detto, te l'ho detto! Tre gol di fila poi dai! Comunque sono tanti! No, sì, 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 sì! C'è gente che li fa in dieci partite tre gol, quindi ti garantisco che sono tanti! Sono già il giocatore più forte! Non esageriamo! Ci siamo ripresi, Fer, dei clinici! Ci siamo ripresi in morale! Io ci credevo in te, perché ti ho allenata bene ed ero sicuro che ci avresti potuta fare! Allora, aspetta che vedo quello lì! Tu vai al centro! Vado, 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 vado! Tieni, Fer! Quasi! Non male! Adesso voglio un 10.5, oltre il 10 andiamo! Non esiste, Fer! Era una bella azione, però! Secondo me hai fatto un'azione che ti garantisce di rimanere a quel 10, perché magari scendevi a 9.9! Sì, voglio proprio chiudere la partita col 10! Sarebbe una bella soddisfazione! Dai, siamo all'ottontottesimo, cioè dovremmo fare... Finita la partita! Vediamo se si porta a casa la palla, sono curiosissimo! Allora, questa è la tifoseria felicissima di Fer e The Queen! Guardalo come corre a tutte le parti! Grazie, grazie, grazie! Si stringono tutti la mano! Ora stanno piangendo! Le hai fatti piangere, Fer! Le ho fatti piangere! Dai, voglio vedere Fer e The Queen con il pallone in mano! Ok, guarda! Mi porta a casa la palla! Mi porta a casa! Non c'era bisogno di baciarla che fa schifo, cioè l'hanno toccata tutti coi piedi! Però va bene, va bene, va bene! Bravo, Fer e The Queen! Hai visto? Hai visto? Sì, sì! Che soddisfazioni! 80% torre gol, 10 pieno come voto! Sulla 10! Ma non c'è bisogno, è già gigante, Fer! Eh, ma volevo... Facciamo baffetti più 10 vicini? Come zoom? Ok, perfetto, perfetto! Sul 10 comunque che l'ho detto male! Ok, lo so che ti vorresti riposare, Fer, ma ho preparato un super allenamento! Allora, la motivazione deve essere questa! Se te ne vuoi andare, dobbiamo fare così! Allora, qua devi crossare la palla con cerchio! Ma tutto io devo fare? Dopodiché segni di testa, sì! Oh mamma mia! Lo so! Allora, vai! Cerchio! Ok, troppo forte! Eh, non so... Mi hai detto che dovevo pure crossare! Mamma mia! Metà potenza, vai! Un po' troppo forte! E soprattutto anche troppo in avanti! Ok, bravissima! Ok, ok, ok! Ci siamo, ci siamo! Questo è l'allenamento che devi fare! Perfetto! Grazie, è tutto troppo veloce! Beh, dai! Dai, 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 ci sei, ci sei, ci sei! Cross! Ok! Vai ancora! Boom! È fuori, vabbè, vabbè, vabbè! Tutto a posto, vai, vai, vabbè! Però almeno sto provando a prendere le... Esatto! Troppo forte! Invece la fighissima! Mettici più impegno, ci sta, ci sta! Eh dai! Andiamo avanti! Allora, non mi aspettavo anche di dover crossare! Eh, lo so, lo so, lo so, lo so! Però, visto che ci siamo, almeno ti provi anche un po' di cross! È un po', ho capito! Allora, la seconda cosa che ho scelto sono i passaggi filtranti, quindi dovrei premere il triangolo per dare al giocatore in corsa! È un po' difficile, però secondo me ci puoi riuscire! Ok, ok! Concentratissima! Eh, questi sì, sono complicati! Oh, mamma mia, ma che è sta roba? Che devo fare, aiutami! Non lo so, Fere! Che devo fare? Sì? Più o meno, più o meno, credo fosse... Ma allora, non me l'hai spiegato! Vai, te l'ho dato! Non ti spiegare neanche tu! Tira! No, non ho idea di come funziona, Fere! È un po' flippato! Corri, 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 triangolo! Mi hai dato un joystick che fa davvero schifo! Perfetto, segna! Bravissima! Ancora così, porta! Però è che sono più difficili gli allenamenti che le partite giocate? Lo so, per quello ti devi concentrare e farli bene! Non ho le cose di legno in mezzo, in campo! Allora, questo è per le punizioni, perché prima o poi dovrai imparare a battere anche le punizioni! Oddio, e quindi che lo fa? Limitati a dare una buona direzione di analogico e poi un buon quadrato a metà! Ok! Ok? Dalla prima capisci cosa devi migliorare! Sopra la porta! Decisamente più a destra! Allora... Tipo così? No, vai a destra, a destra, a destra! Così? Un po' più a sinistra! Potenza a metà! Ok! Ok, secondo me è buona! Terribile! Ma che mi hai fatto tirare? Ma... Cioè... Allora, tieni così, però potenza... Troppo potente, Fere! Vabbè, le punizioni sono per il futuro, per diventare forti quanto Cristiano Ronaldo e Messi! Per ora, pensiamo al resto, ok? L'ho messo giusto per! Ora ci sono i dribbling, che sono un altro fattore importantissimo! Ma no, perché mi hai messo... Io volevo fare solo i passaggi di testo, sinceramente! No, Fere, c'è pure un'altra sorpresa dopo! Non so perché mi hai messo tutte queste cose! Vai, vai, vai! Corri! Corri, 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 corri! Allora, rallenta! Ok! Ok, bravissima! Peccato, ci sei girata un po' troppo! Ma... Quello da dove arriva? Tiratore infallibile, per fare dei tiri incredibili contro il portiere! Ok! Ok, devi tirare massimo da lì! Ok, quindi è la massima aria! Vai! Perfetto! Potenza giusta! No, no, mi piace quando tiri forte! Mi piace! Non ho segnato! Guarda! Ok, questo va bene! Ok, vai! Vedi, nei tiri me la cavo un po' meglio, comunque! Bravissima! Nei tiri! Bravissima! Vai ancora! L'unica cosa che ho imparato a fare! Ci stava! Ci stava! Ci stava anche questo! Questo è facile! Questo è facile! Buonissimo! Buonissimo! Vai ancora! Vai ancora! Mira! Questi di lato sono super... Perché devi mirare! Devi andare verso la porta! Quel minimo che puoi! Però senza R2, perché altrimenti ti esci fuori! Mira un po'? Esatto! Esatto! Un po' prima! Direi che ci possiamo fermare! L'obiettivo sarà quello di diventare il miglior giocatore del mese in modo tale che d'inverno ci fanno scappare per forza, perché il miglior giocatore del mese si fa notare! Cioè, dai, è così! Quindi dobbiamo continuare a segnare tanti gol, mentre sei salita anche di valore! Sei salita a un milione e otto, prima valevi un milione e mezzo! Allora, facciamo che mi prendo i soldi, mi ritiro dal calcio e mi vivo tipo tre vite Cioè, con un milione e otto, quindi non funziona così! No, Ferre, tu vuoi diventare il miglior giocatore del mondo? No, mi basta anche essere ricco! Ok! Cioè, a posto! Però vuoi diventare lo stesso il miglior giocatore del mondo! Non lo so! Vabbè! Dipende se mi offrono molto ci penso, non lo so! Certo che se diventi forte ti offrono un sacco di soldi! Quello so che i soldi non sono diretti a me, ma alla squadra, dai, vabbè! No, c'è anche lo stipendio tuo! Sì, lo so! E più sei forte, più alto è lo stipendio! Ovvio, ovvio, ovvio! Comunque! Ci fermiamo così per questo video, speriamo che vi sia piaciuto! La tripletta è stata fantastica! Prossimo episodio, appunto, cerchiamo di diventare miglior giocatore del mese! E dopodiché, mi sa che andremo un bel po' avanti per scappare dall'Austria! Così torneremo in una squadra europea normale tra Inghilterra, Spagna e Italia! E cercheremo di far diventare Ferre dei Queen un fenomeno incredibile! Quindi, se la serie vi sta continuando a piacere, tanti like, tanti commenti e soprattutto a sondaggino! E ci fermiamo così! Per ragazzi, vi è lasciato così, senza giù un like! E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri video! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!